Eccoci all'entrata in campo, gara del campionato provinciale titolo Chieti tra la Virtus Castelfrentano e il Casal Bordino Calcio. Il Casal Bordino gioca con i loro colori sociali giallorossi come i nostri, mentre noi con la divisa bianca con i svolti giallorossi. Il direttore di gara e della sezione AIA di Chieti. Grazie.